Eccoli! 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 Insuperabili eroi di mille avventure, i più spassosi e esilaranti comici del nostro tempo che sapranno strapparvi mille risate. Un tema nuovo per un film originale. Una girandola di... I due della Formula 1 alla corsa più pazza, pazza del mondo. Ma chi è l'eroe di una corsa così entusiasmante in cui i bolidi impazziscono? E nel cielo sfrecciano macchine impossibili. Sì, è Franco! Non poteva essere che lui. E Ciccio? Eccolo il professore. Tenace, geniale, diabolico inventore della Formula 1 che guida elettronicamente dal suo laboratorio infernale per condurre Franco alla vittoria. I due della Formula 1 alla corsa più pazza, pazza del mondo. Con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Parisa Traversi. Umberto Dorsi. Luciano Picozzi. E Memmo Carotenuto. Un film imprevedibile, esilarante, esplosivo. Un film con quel tanto di suspense che non mancherà di produrre il suo effetto. I due della Formula 1 alla corsa più pazza, pazza del mondo. Prodotto dalla Cine Escalation. Distribuito dalla Jumbo Cinematografico. Prodotto dalla Cine Escalation. Prossimamente, qui.